Buongiorno, grazie a coloro che hanno sfidato le intemperie, i primi freddi reali che hanno colpito Genova perché siete qui e grazie soprattutto all'ingegnere Enrico Allieri che oggi ci parlerà praticamente del shipping transizione energetica. In effetti si inserisce benissimo all'interno del nostro seminario in quanto noi per brevità abbiamo messo transizione ecologica ma in partenza nella nostra idea era proprio una transizione energetica ed ecologica, c'erano tutte e due. Poi veniva un titolo eccessivo, troppo lungo e quindi abbiamo preferito accorciare. L'ingegnere si è laureato a Genova, nella nostra città, anche se è di provenienza da bellissima isola a Sardegna e si è da subito interessato dello shipping delle navi. Prima, se non vado errato, ha fatto un inizio con il Cetena che, se ricordo bene, il Cetena era un laboratorio fincantieri o centro di ricerca del fincantiere. Mi ricordavo qualcosa, avevamo avuto anche noi come università, io sto parlando della componente biologica, quindi non ingegneristica ha a che fare con il Cetena. Dopodiché è passato un'esperienza come responsabile tecnico e libero professionista, è diventato direttore tecnico del Moviline e successivamente direttore tecnico della Ignazio Messina, dove ha diretto anche la progettazione e la costruzione delle nuove navi. Quindi credo che meglio di lei non ci possa raccontare nessuno, visto che dalla progettazione e la costruzione ha seguito il tutto, saremo molto interessati a sapere che cosa ci racconterà nella sua conferenza. Lascio la parola e grazie ancora per essere venuto. Grazie, grazie mille della presentazione, spero di non annoiarvi troppo e diciamo che innanzitutto permettetemi di presentare l'associazione per la quale io curo gli aspetti che si chiama Assarmatori, per cui curo gli aspetti di innovazione tecnologica, di sicurezza della navigazione e di ambiente. Assarmatori è un'associazione di armatori e di operatori del settore che ha sede a Roma, ma anche degli uffici qui a Genova e a Bruxelles. Fanno parte dell'associazione sia armatori e operatori nazionali, ma anche internazionali che però operano stabilmente nel comparto marittimo italiano. Cerchiamo di dare voce agli armatori per tutto quello che riguardano gli aspetti di interesse, ovviamente cercando di migliorare il loro business e di favorire l'innovazione tecnologica e gli investimenti in nuove tecnologie. Ci abbiamo la sede a Bruxelles perché ormai, come sapete benissimo, le decisioni da cui poi scaturiscono a cascata le decisioni poi di tutte quante le altre regolatori, chiamiamoli così, nascono a Bruxelles. Abbiamo cercato di mettere qualcuno molto vicino a questo centro importante di decisione perché, secondo noi, avere le antenne dove nascono le cose prima che arrivino è accaduta e molto spesso non sono poi facilmente controllabili è molto molto importante. vedo che le slide non sono ancora. Diciamo della nostra associazione fanno parte importanti compagnie di navigazione, diciamo la più importante ma soprattutto perché è la più grande di tutte è la MSC, la Mediterranean Shipping Company che come sapete da qualche semestre ormai è la prima compagnia mondiale di trasporto di contenitori, oltre ad avere un forte comparto croceristico, ma anche altri armatori. Per esempio la Ignazio Messina qui è una compagnia storica, una delle più antiche ormai compagnie di navigazione italiane qui di Genova, fa parte della nostra associazione, sono a nostri associati, ma senza far torto a nessuno, quelli che dimenticherò, compagnie come la GNV, la TIREN, la Mobilines. Cioè siamo rappresentativi di una di un grosso comparto dello shipping italiano, circa il 50% dei servizi di autostrade del mare, il 70% dei servizi di short shipping che sono quelli che collegano le piccole isole, il 50% del volume totale dei contenitori che transitano in Italia trasportato ai nostri associati e il 50% dei servizi corceristici regolari. In più abbiamo anche ovviamente rappresentanza di tankers, di bull carriers e degli altri, diciamo, comparti del settore. Bene, questo giusto per presentare l'associazione e andiamo velocemente al tema della nostra conversazione di questo pomeriggio. L'ho immaginata, divisa in tre parti. In una prima parte cercheremo di capire perché la transizione energetica del pianeta ha bisogno dello shipping, ha bisogno di uno shipping in buona efficienza, in buona salute. Perché lo shipping è la linfa vitale del commercio e dell'economia mondiale. Attraverso lo shipping vanno trasportate praticamente tutte le cose che noi, tutte le cose che noi maneggiamo, hanno una componente di trasporto via mare. Qualsiasi cosa che sia energia, che siano semilavorati, che siano prodotti finiti, ha avuto un pezzettino, un pezzettino che è passato in qualche modo per mare. Nella seconda parte vedremo di capire come mai l'abbandonare le fonti fossili è il modo migliore per abbattere le emissioni di carbonio, perché la componente dell'energia, la componente di fabbisogno energetico è quella che dà il maggior, la maggior fetta di componenti di gas e fetosera. Se noi togliessimo l'energia saremo a cavallo. Il problema è che senza energia non si può fare praticamente nulla. E nella terza parte vi darò un pochettino più di dettagli relativi allo shipping, del perché lo shipping è di fronte a delle sfide molto importanti, delle sfide che sono anche molto sfidanti, permettetemi il, permettetemi lo scontro di parole, perché sono delle cose che dovranno essere fatte di sicuro, ma sono anche delle cose che saranno estremamente difficili da fare. Infatti tutti quanti considerano il nostro settore come il settore, un settore hard to abate, cioè difficile, difficile da contenere quanto ad emissioni. Bene. La transizione energetica, io ho scelto questa fotografia qui perché è molto emblematica. Questa qui è tratta dal quarto studio dell'IMO, dell'International Maritime Organization, sullo shipping e i gas climalteranti. Come vedete è una nave che trasporta delle pale eoliche, quindi niente, niente di più, di più calzante. Non si legge, è probabilmente stata cancellata nella Siglaimon, nel nome di quella nave che probabilmente però è propulsa con del bruttissimo fuel fossile. Però questo qui è, questa qui è la, sì, questa qui è la contraddizione tutto sommato, cioè noi dobbiamo andare verso la transizione, la transizione energetica, ma delle navi ne abbiamo bisogno. Io sono un, mi considero un umanista prestato alla tecnica, dalla mia maturità classica, quindi ho voluto, visto che siamo anche in un ambiente che cura entrambi gli aspetti, sia di scienze che di lettere, ho voluto partire da un po' da lontano, diciamo così, ma soltanto per far capire, per dimostrare, qui a Genova è quasi banale parlare dell'importanza dello shipping, perché non credo che ci sia una città in Italia che è così connessa con il proprio porto, quindi con la propria marineria, con le proprie attività di trasporto marittimo, quindi è quasi una banalità sottolineare il trasporto dello shipping. Però che lo shipping sia intimamente, la storia della navigazione sia intimamente connessa con la storia dello sviluppo del genere umano. Noi abbiamo una finestra sul Mediterraneo e sull'Europa, probabilmente dalla Cina potrebbero fare altrettanto guardando da un altro punto di vista, però già dal IV secolo a.C. voi vedete le colonie fenice e le colonie greche che popolano tutte le sponde del Mediterraneo, portando civiltà e cultura probabilmente con l'uso semplicemente degli scambi commerciali, mentre magari per terra voleva portare la cultura e la civiltà veniva portata magari anche con le armi qualche volta. Andando avanti, per i romani il mare diventa addirittura, il Mediterraneo diventa addirittura il mare Nostrum e come dice Plutarco, Pompeo Magno per incitare i soldati che si rifiutavano di affrontare il mare che era parecchio procelloso per trasportare il grano dalle province verso Roma, diceva, navigare neccesse est, vivere non est neccesse, cioè si doveva navigare anche a costo della propria vita. Tanto i romani giudicavano importante lo shipping per la sopravvivenza di Roma e per la sua espansione. Veniamo anche a Genova, perché dire delle repubbliche marinare? Le repubbliche marinare sono, quando è caduto l'impero romano di occidente, sono quelle che hanno consentito non all'Italia, ma all'Europa di riconnettersi con l'Asia e con l'Oriente. Quella frase che vedete sulla diapositiva di Ciampi lo dice in una frase brevissima, dice tutto quello che hanno significato le repubbliche marinare di cui Genova è stata una grandissima parte. Anche qui lo shipping diventa un modo per portare benessere, portare cultura in giro per il mondo. E in queste occasioni qua nascono il diritto internazionale, nascono le strutture commerciali internazionali dalla Repubblica marinare. Quindi noi come italiani abbiamo una grossa responsabilità, anche un grosso merito riguardo a questo. Diciamo che l'epoca dei Clipper, che è una epopea, ci porta quando le navi si arrivano addirittura per unire le due coste degli Stati Uniti d'America. A quel tempo era più facile raggiungere la costa occidentale e la costa orientale, connetterle, passando attraverso Capo Horn con i Clipper, piuttosto che attraversarla a piedi o a cavallo con dei carri. E la navigazione si arriva a questo. C'era la corsa dell'oro in California e le navi viaggiavano a pieno ritmo con questi meravigliosi vascelli che erano estremamente veloci, propulsi ovviamente a vela, e che consentivano di fare più rapidamente questo percorso. Quindi immaginatevi cosa ha significato per quella fase di il trasporto marittimo. E poi è diventato, diciamo così, il trasporto dei beni pregiati con l'Estremo Oriente, con l'Australia, con la Nuova Zelanda, soprattutto unendo Inghilterra e Europa in genere, e gli Stati Uniti d'America. Quindi quando è venuto, poi è venuto il vapore, quando a un certo punto l'apertura del canale di Suez ha consentito alle navi a vapore di fare un percorso molto più breve, quindi di bypassare il campo di Buonasperanza e quindi di non perdere troppo tempo, roba che ovviamente le navi a vela non potevano fare, allora c'è stato un declino inevitabile della vela. Però a quel punto lasciamo la strada e la rete dei commerci e la rete dell'interconnessione era già tracciata. Oggi abbiamo dei software incredibili che ci consentono di vedere la posizione di tutte quante le navi in giro per il mondo. Questo è tratto da Marine Traffic, ma ce ne sono anche di altri. E da lì si vede proprio come i continenti, le coste, siano abbracciate dalle navi e ci si vedono chiaramente le linee dove corrono le rotte principali. Bene, è una connessione, è una rete fittissima di scambi commerciali. Oggi possiamo tranquillamente dire che il trasporto marittimo è l'ottanta per cento degli scambi viaggiano via mare. È la linfa vitale, è assolutamente la linfa vitale del commercio internazionale. L'International Chamber of Shipping giudica che il commercio intercontinentale sia per il 90% fatto da shipping. Quindi semplicemente non ci sarebbero trasporti di materie prime, trasporti di semi lavorati, trasporti di alimentari, trasporti di prodotti finiti a prezzi competitivi se non si fosse lo shipping. E lo shipping sia importante, lo abbiamo visto anche relativamente di recente, durante il periodo del Covid abbiamo avuto una nave da 400 metri che si è così impallata in mezzo al canale di Suez, si è posizionata con la poppa in una sponda, con la parola nell'altra, è rimasta bloccata lì per sei giorni. E questa nave qua ha fatto sì che dopo circa 5-6 giorni ci fossero 370 navi in coda in attesa di essere in qualche maniera autorizzate, possibilitate, ha reso possibile la navigazione nel canale e il commercio si è bloccato, si stima per una cifra intorno ai 9,6 miliardi di dollari, siano state le cifre, la cifra dei commerci bloccata in quei giorni là, con delle ricadute dal punto di vista della catena logistica che sono state pesantissime, che si sono sentite per mesi. Oggi l'industria e la supply chain del just in time sono legate alla logistica, cioè le industrie tendono ad avere magazzini limitati per non avere blocchi di capitale inutili e che poi sono tutto sommato costosi e si fidano in qualche misura della logistica di cui le navi sono ovviamente una componente importante per mandare avanti i loro prodotti. Se si blocca un piccolo pezzo della catena logistica, quindi se si rompe un anello di questa catena, ecco che tutto il discorso in qualche misura cade. E abbiamo visto quanto importante, in quell'occasione lì, abbiamo visto quanto importante fosse il trasporto marittimo. Era già una catena logistica, come dire, pesantemente colpita dalla pandemia, dal covid. Vi ricordo che durante il covid lo shipping non si è fermato, anzi dobbiamo ringraziare, 400 mila marittimi circa sono rimasti bloccati sulle navi con contratti che hanno superato di mesi, di mesi la loro scadenza, impossibilitati a scendere durante le soste nei porti perché non era concessa franchigia per paura dei contatti. Credo che ovviamente dopo i medici, dopo gli infermieri, dopo tutti quanti gli altri, dobbiamo ringraziare anche queste persone qui per aver dato un contributo a farci superare quel difficile momento. Bene, io dico che la transizione non potrà avvenire rallentando lo shipping. L'economia mondiale avrà bisogno di recuperare capitali per finanziare la propria, diciamo, la propria transizione. Il pianeta ha bisogno di un'economia, di un'economia solida per finanziare la transizione. L'Università di Stanford ha stimato che ci vorranno 62 trilioni di dollari, vale a dire 62 miliardi di miliardi di dollari per la transizione energetica di quasi tutto il pianeta. Ovviamente si parla di transizione energetica dei paesi sviluppati in via di sviluppo. Indubbiamente i paesi sottosviluppati purtroppo per loro non fanno parte di questa partita. Ecco, le risorse per fare per la transizione energetica chiedono un'economia efficiente, un'economia forte, un'economia robusta, in grado di alimentare la crescita normale, quella che tutti quanti noi ci aspettiamo, ma anche la crescita supplementare che serve per alimentare la transizione energetica. Oggi comprare un'automobile elettrica sappiamo tutti che costa una buona cifra, quindi molto più di una pari categoria non elettrica. E' esattamente la stessa cosa, poi ci farà risparmiare in qualche modo, perché magari costerà di meno gestirla, costerà di meno mantenerla, però nel frattempo bisogna acquistarla. Quindi lo sforzo di capitale che serve per portarci in casa la transizione energetica sarà sicuramente ripagato in futuro, quando avremo delle tecnologie che prenderanno l'energia, tra virgolette, gratis, in qualche modo, tra le rinnovabili. Ma nel frattempo, nel frattempo però, i capitali per fare questo lavoro qua bisogna che siano in qualche modo messi in fienile, bisogna portare del fieno in cascina. Quindi l'economia dovrà essere un'economia florida, l'economia dovrà essere un'economia in buone condizioni. E ci dovrà essere un shipping in buone condizioni per permettersi di fare questo, perché se l'economia crescerà, gli scambi commerciali cresceranno e lo shipping e il trasporto via mare dovrà commentare e supportare questi scambi. Quindi non possiamo permetterci di avere una decarbonizzazione dello shipping che significhi parallelmente meno trasporto marittimo. Sarà vero esattamente il contrario. Per decarbonizzare il mondo ci sarà bisogno di shipping che dovrà crescere e contemporaneamente decarbonizzarsi. Questa è la vera sfida che lo shipping ha davanti. Prima nella sua introduzione abbiamo detto che il titolo sarebbe stato, poteva essere molto più ampio, di transizione energetica ed ecologica. Ovviamente l'ecologia contempla un sacco di altre cose, dei rifiuti, dalla gestione delle microplastiche, tutto quello che ormai conosciamo quasi tutti a mena dito. Ma perché la decarbonizzazione è così importante per la transizione ecologica? E perché bisogna abbandonare le fonti fossili? Perché le emissioni di CO2 sono quelle che stanno in qualche maniera inguagliando il pianeta. Dalla rivoluzione industriale ad oggi, questo è un grafico che molti di voi se si interessano di questi argomenti, come credo, visto che siete qua, conosceranno abbastanza. Cioè dalla rivoluzione, all'inizio della rivoluzione industriale ad oggi, la quantità di carbonio, di canidride carbonica emessa in atmosfera dalle attività umane è cresciuta in una maniera dell'esponenziale. E la concentrazione di carbonio nell'atmosfera è una volta e mezzo quella del livello preindustriale. Questo è dato da che cosa? Dalle fonti fossili che utilizziamo. Noi utilizziamo delle fonti fossili che sono principalmente carbone, petrolio, gas naturale, ma anche altre sabbie, scisti, bituminosi, che sono il prodotto di cataclismi avvenuti mille anni fa, millenni fa, millenni, non mille, migliaia di anni fa, che in qualche modo hanno intrappolato delle masse all'interno, nel sottosuolo. Noi adesso stiamo usando questo carbonio che è stato prodotto come viene prodotto oggi. Oggi le biomasse catturano il carbonio attraverso la fotosintesi clorofiliana. La incapsulano nelle fibre delle vegetali e entrano in questo modo nella catena alimentare e quindi diventano quelle che chiamiamo comunemente biomassa. Non c'è solo la fotosintesi clorofiliana. Parlo di questa perché è quella più evidente, più nota a tutti. Bene, questa massa enorme, queste biomasse enormi, sono state per il via dei cataclismi messe sotto terra, migliaia e migliaia di anni fa, e noi in 200 anni, secondo le stime, le abbiamo estratte praticamente al 50%. Quindi abbiamo nel giro di 200 anni ributtato in atmosfera del carbonio che era rimasto sequestrato per millenni. Per questo abbiamo aumentato in maniera così violenta e forte, lo si vede dal grafico, le emissioni di carbonio. Il carbonio è un gas e il cosiddetto effetto serra. Il gas effetto serra non c'è solo il carbonio, l'anidride carbonica come gas effetto serra. Voi pensate che il principale, il responsabile di tre quarti dell'effetto serra è il vapore acqueo, tanto per dirne una. Quindi non parliamo di cose stranissime. Però i gas effetto serra hanno, diciamo, la caratteristica di far passare tranquillamente, filtrando pochissimo le radiazioni provenienti dal sole, ma non fanno passare le radiazioni provenienti dalla terra che si è in questo modo riscaldata. Quindi non c'è una sufficiente trasmissione termica verso l'esterno della biosfera e dell'atmosfera e quindi c'è un innalzamento delle temperature. Perché siamo focalizzati molto sul carbonio, anche sull'anidride carbonica, anche se non è l'unico gas effetto serra, perché ce ne sono tre altre, per esempio il metano, ma ci sono anche il biossido di carbonio, i famosi NOx, sono anche loro dei gas effetto serra, più potenti del carbonio, tutto sommato, poi vedremo anche perché. Siamo focalizzati con l'anidride carbonica perché l'anidride carbonica è prevalentemente di origine antropica, perlomeno il surplus, è prevalentemente di origine antropica, cioè prodotta dalle attività dell'uomo. Quindi se noi andiamo a colpire le attività, a ridurre, diciamo così, colpire in senso buono le attività dell'uomo, abbiamo grandi possibilità di ridurre l'apporto di anidride carbonica all'atmosfera. Questo è perché c'è così attenzione e si ha spesso un parallelo tra transizione energetica e decarbonizzazione. Le cose vanno, anche se non è proprio così, vanno quasi di pari passo. Decarbonizzare significa fare la transizione energetica in qualche modo, o perlomeno farne una fetta molto molto importante. Allora, se noi facciamo un'analisi di come viene in qualche modo prodotta l'energia, vediamo che le fonti energetiche sono, se le guardiamo per settore, sono in gran parte, la gran parte, quasi tre quarti dell'energia prodotta, deriva dalla, scusate, quasi tre quarti del gas a effetto serra, viene fuori dalla produzione di energia. Cioè tre quarti dei gas, dei gas clima alteranti, sono prodotti dal fabbisogno energetico delle attività dell'uomo. Per il 33% questa energia se ne va nelle industrie, per la produzione industriale. Il 24% dell'energia va negli edifici commerciali, residenziali, l'illuminazione, il riscaldamento, il raffrescamento, i computers. Una volta ho letto una cifra spaventosa su quanto costa in termini di CO2 guardare un film in streaming. È raccapricciante, guardate, veramente raccapricciante. Poi ci sono il 22% dell'energia che è per i trasporti, qui siamo dentro ovviamente anche noi dello shipping. E poi ci sono un po' di consumi non addebitabili in modo specifico, delle perdite e poi anche l'industria e l'agricoltura che fanno la loro parte. Però vedete, il 74% delle emissioni di CO2 dipende dalla creazione dell'energia. Questo è il punto fondamentale. Se ora andiamo a vedere che l'80 e passa per cento, l'84% dell'energia è prodotto con fonti fossili, capiamo immediatamente perché abbattere le emissioni di carbonio significa ridurre drasticamente le emissioni in atmosfera di CO2. Perché se noi combiniamo quel tre quarti con l'84% vediamo che se noi abbattiamo, se noi abbattiamo, se noi potessimo con uno schiocco di dita eliminare e sostituire con fonti a zero emissioni le fonti fossili, noi ridurremo del 60% con questo stesso schiocco di dita, le emissioni di CO2. Ovviamente non è una cosa possibile né fattibile. L'idroelettrico e il solare e l'eolico sono delle fonti cosiddette rinnovabili zero carbon perché quando le produciamo non emettono nessuna CO2. Non ci sono emissioni di CO2 da questo tipo di fonti. Perlomeno emissioni dirette in qualche modo. Poi ci sono, se uno fa un'analisi un'analisi dall'origine potrebbe anche trovare qualche traccia di CO2 da qualche parte per magari per produrre determinati macchinari che servono a mandare avanti, a creare queste strutture qua. Però dal loro punto di vista non sono emetitrici di CO2. Quindi le chiamiamo zero carbon. Mentre ci sono delle forme di energia che possono essere carbon neutral, cioè sono soprattutto quelle di origine biologica, i biofuel e i biocombustibili. Perché i biocombustibili sono basati sulle biomasse. Le biomasse, come dicevamo prima, prelevano dall'atmosfera la CO2, le immagazzinano nelle fibre e quindi quando queste fibre entrano in qualche modo nelle biomasse che vengono utilizzate per creare combustibili di tipo biologico, in qualche modo rientrano in atmosfera. Quindi è una partita che si chiude in pareggio. Anzi, spesso è una partita che si chiude un po' in negativo perché magari molte delle fibre che magari stanno al di sotto del suolo non vengono poi utilizzate per fare i biocombustibili. Quindi potrebbe essere addirittura una partita non neutral ma addirittura negativa. Però diciamo che le chiamiamo neutral da questo punto di vista. Arriviamo adesso allo shipping perché prima o poi ci dovevamo arrivare, no? Per parlare di shipping. Qui vedete il mare e vedete delle paleoliche e non vedete navi. Anche questo è un po' emblematico perché tutto sommato la transizione senza navi potrebbe correre il rischio di farci trovare in quella situazione. Bene, l'IMO che è l'International Maritime Organization ha iniziato ormai da più di un decennio la propria strada verso la decarbonizzazione delle navi. L'IMO ha un approccio di tipo compliance, rule compliant. Cioè, vale a dire, le navi vengono imposte determinate normative, tecniche ed operative. Le navi semplicemente devono adeguarsi. Se non si adeguano non ottengono i certificati per navigare, quindi banalmente non navigano. Questo qui è l'approccio. Questo è l'approccio dell'IMO. Quindi l'IMO emette degli strumenti di regolazione e questi strumenti regolazione devono in qualche modo le navi le devono soddisfare. Diciamo da 2011 a oggi i principali strumenti sono quei quattro che vi ho elencato nella diapositiva. C'è l'IDI che è l'Indice di Efficienza Energetica di Progetto che impone a tutte quante le nuove costruzioni di avere un determinato indice di efficienza energetica. L'efficienza energetica è data dalle quantità di carbonio che vengono emesse in atmosfera, di anidride carbonica che vengono emesse in atmosfera, rapportate al lavoro di trasporto. Il lavoro di trasporto non è altro che la quantità di merci che io trasporto moltiplicata per la distanza che gli faccio fare. Quindi questo è un parametro che mi dice quanto una nave è efficiente, una nave che consuma una certa quantità di combustibile, emette una certa quantità di carbonio, di anidride carbonica, è più efficiente, che porta a un determinato carico, è più efficiente di una nave che consuma la stessa quantità ma porta a un minor carico. È come quando vediamo un'automobile che porta una persona e la stessa automobili che ne porta cinque. Quella che ne porta cinque è più efficiente dal punto di vista energetico e sta trasportando cinque persone invece che una. Un secondo elemento, un secondo strumento è sempre il piano di, il piano di lo Ship Energy Efficiency Management Plan. È un piano obbligatorio che tutte le navi devono avere per gestire l'energia a bordo e serve per, diciamo così, spingere le compagnie di navigazione e di armatoria a delle pratiche sempre più efficienti dal punto di vista energetico, delle pratiche che consentono di indirizzarsi verso tecnologie e verso pratiche operative che consentono di risparmiare. Più di recente è stato introdotto l'IXI. L'IXI è un indice di efficienza energetica che però riguarda le navi in esercizio, non le navi alla progettazione. Quindi tutte le navi devono calcolarsi questo XI, devono avere un XI previsto dalla norma, devono adeguarsi facendo delle trasformazioni, delle modifiche a questa norma che sostanzialmente è l'Idi del 2020. Quindi vale a dire serve ad uniformare le navi, sia le nuove che quelle esistenti, ad avere uno certo standard di performance energetico ed ambientale della flotta. L'ultimo in ordine di tempo è il CII, che è il Carbon Index Indicator, che non è altro che la classificazione delle navi, un po' come avviene con gli elettrodomestici, dalla A alla E, che consente di etichettare le navi in funzione della loro capacità, della loro efficienza energetica. La A è la categoria migliore, E è la categoria peggiore. Le navi vengono classificate in base a questa scala e una nave che si trovasse nella penultima casella, quindi in classe C, in classe D scusate, per tre anni consecutivi, oppure che si trovasse nella classe E, deve presentare un piano di adeguamento, deve presentare un piano di rientro, perché se no ci sono delle sanzioni di tipo amministrativo e potrebbero anche venire a ritirare i certificati e la nave potrebbe non navigare più. Anche l'Europa ha acceso i propri fari sullo shipping. Quando nel 2019 è stato lanciato l'European Green Deal, la Commissione Europea si è messa in moto e nel 2021 ha presentato un pacchetto che si chiama, l'avete sentito tutti, Fit for 55, che vuol dire pronti a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030, paragonate alle emissioni di riduzione, paragonate alle emissioni del 2020. Questo pacchetto ha delle misure che sono direttamente indirizzate al settore navale, io ne cito due qua, il sistema EU-ATS e la Fuel Air Maritime, e anche delle altre misure che sono di natura più generale, ma che comunque interessano le navi. L'AFIR per esempio, l'AFIR è una direttiva che impone agli stati di costruire una rete di distribuzione dei combustibili alternativi, primo fra tutti il GNL, che è l'unico che in questo momento c'è. E tutto sommato stiamo faticando abbastanza a portare avanti questa direttiva, a dargli corso. C'era stata una precedente che era l'AFIR, che avrebbe già dovuto, l'Italia avrebbe già dovuto avere un certo numero di stazioni di bunkeraggio, farla a small scale, quella che si chiama small scale per il GNL. In realtà siamo molto indietro. L'AFIR contiene anche una cosa molto significativa ed importante, soprattutto per le città e per i porti storici, che è l'obbligo per per i porti, poi vedremo che c'è anche un obbligo per le navi nella fuel maritime, di dotarsi del sistema di cold iron, che non è altro che la possibilità, di dare la possibilità alle navi che attraccano in banchina, di staccare i generatori di bordo e alimentarsi con la corrente elettrica proveniente dalla rete di terra. Questo ha un grossissimo vantaggio dal punto di vista soprattutto delle emissioni nei porti storici. L'Italia ha moltissimi porti che sono intimamente connessi con le strutture abitative, i porti storici italiani. Ne abbiamo un esempio meraviglioso qui a poche centinaia di metri. Però questo qui vuol dire che moltissime navi, anzi tutte le navi in sosta durante la loro sosta emettono perché devono tenere accesi i propri generatori per alimentare i servizi di bordo. E poi in qualche modo se il mix energetico è un mix energetico buono, connettere la nave alla corrente elettrica di terra vuol dire abbattere le emissioni di CO2. Certo che se produco l'energia elettrica con una centrale a carbone ho fatto una partita in perdita perché tutto sommato a quel punto conviene che le navi utilizzino i loro generatori di bordo. C'è anche la RED2 come normativa di tipo generale che riguarda i combustibili alternativi. Ne favorisce la produzione, li classifica e in qualche modo anche lo shipping potrà attingere dai risultati, dalle ricadute di questa direttiva. Ma le due più importanti sono le UATS, qui vedete l'andamento delle quote, del costo delle quote. Le UATS non è altro che un principio, si basa sul principio di cap and trade, cioè vale a dire che ogni anno l'Unione Europea stabilisce quanta CO2 può essere emessa nel proprio territorio e questa quantità globale di CO2 è prevista a diminuire nel corso del tempo. Ognuno deve in qualche maniera comprare un po' di queste quote. C'è un mercato che in qualche modo scambia le emissioni, cioè ogni anno, alla fine di ogni anno, gli armatori devono comprare un numero di quote sufficienti a coprire le emissioni dell'anno precedente. Vale a dire io ho emesso, ogni quota equivale a una tonnellata di CO2, vale a dire io ho emesso X tonnellate di CO2 l'anno scorso, devo comprare X tonnellate di CO2 quest'anno. Questo meccanismo è un meccanismo che si fonda sulle leggi di mercato, è praticamente un mercato dei futures, è un po' come la borsa in qualche modo. Voi vedete le oscillazioni dell'ultimo anno vanno da 100 euro a tonnellata, quindi una quota costava 100 euro, a 80 euro circa. I prezzi di oggi sono grossomodo, e varia ogni giorno, i prezzi di oggi sono grossomodo 80 dollari per una quota di, facendo una cifra tonda, per una quota di CO2. Ora voi pensate che i combustibili normali che usano le navi emettono per ogni tonnellata di combustibile consumato, vengono prodotte più di 3 tonnellate, 3,1 tonnellate di CO2. Quindi quando io a fine anno ho comprato il combustibile, a quello che ho comprato devo aggiungerci tutti i denari per pagare le quote. È come aggiungere ad ogni tonnellata di combustibile 240 euro alle quotazioni di oggi. Se voi pensate che questo incide per circa il 35% sul prezzo del combustibile a basso tonnellate di isolfo, che viene usato normalmente, quello allo 0,5%, e per il 25% sul prezzo del diesel navale, voi vedete che si tratta di una, visto che le bollette energetiche sono una parte importante del costo delle compagnie di navigazione, vi rendete conto di quanto incida. Ecco, l'approccio della Comunità Europea, dell'Unione Europea è diverso rispetto a quello dell'Aimo. L'approccio dell'Unione Europea è quella di far pagare chi inquina, in qualche modo in forza dal punto di vista economico, a rientrare in determinati parametri. Cioè ti faccio pagare, ti faccio pagare di più se inquini di più. Questo è un pochettino il meccanismo. Nel futuro verranno, come dire, sempre più tassati i combustibili di origine, e sempre più colpiti i combustibili di origine fossile. Però questo non vorrà dire che il prezzo delle quote vada a diminuire. Il prezzo delle quote andrà ad aumentare in ogni caso, perché diminuiranno il mercato. Significa semplicemente che la bolletta energetica delle compagnie di navigazione è destinata inevitabilmente a salire. La Fuelium Maritime invece ragisce sulle quantità, le quantità di combustibili alternativi che io dovrò man mano immettere a bordo per la navigazione. Con riferimento alle emissioni, alle quantità emesse nel 2020, dovrò avere nel 2025 una riduzione del 2%, nel 2030 del 6% e così via, fino ad arrivare a una riduzione dell'80% nel 2050. Questo è un pochettino la Fuelium Maritime, quello che ci impone. Bene, in questo quadro di rules regulations che abbiamo visto, si inserisce lo shipping che ha delle sfide da superare. Abbiamo delle sfide di natura tecnologica, cioè trovare i combustibili più adatti, più promettenti, le tecnologie più mature e promettenti da portare a bordo delle navi. E diciamo che questa sfida, la sfida tecnologica, è quasi vinta. Nel senso che oggi costruire una nave che vada a idrogeno è possibile. Costruire una nave che vada a metanolo è possibile. Costruire una nave elettrica è possibile. Quindi, dal punto di vista delle tecnologie applicabili, ce ne sono alcune che sono più promettenti per determinati settori, altre più per altri. Per esempio, io vedo un futuro dove le navi elettriche saranno sicuramente quelle che potranno collegare le isole minori, perché magari le isole minori hanno necessità di collegamenti brevi, possono ricaricare in porto durante le notte le proprie batterie e possono in qualche maniera essere, come dire, supportate. Le batterie avranno sicuramente gli sviluppi che gli consentiranno di fornire l'energia necessaria. Per grandissime, per le grandi navi, per il Deep Sea, per esempio, il discorso delle navi elettriche al momento quanto meno è abbastanza improponibile. Però diciamo che le tecnologie, dal punto di vista filosofico, le tecnologie in qualche modo ci sono e possono essere in qualche modo applicate, se non altro in modo con prototipi sperimentali. Il discorso deve essere ovviamente parallelo per quanto riguarda la produzione. E qui c'è la seconda sfida. C'è una sfida di produzione che riguarda non tanto le navi, che possono fare in questo caso soltanto un'azione di stimolo, ma riguarda l'industria di terra, che deve mettersi nelle condizioni di produrre combustibili alternativi nelle quantità sufficienti e con dei costi che siano in qualche misura ragionevoli. Cioè devono essere dei costi che consentono comunque allo shipping di operare. E poi questi combustibili alternativi devono essere portati a bordo delle navi, quindi ci vuole un'infrastruttura di bunkeraggio, di distribuzione. Le navi non sono come le automobili che fanno dal distributore. Nel caso delle navi è il distributore che va dalla nave. La bettolina, il bunker, deve prendere il suo carico di energia, chiamiamolo così, andare sotto bordo, mentre la nave è solitamente operativa, quindi svolge le sue funzioni di carico e scarico, di imbarco delle auto, dei passeggeri, dei contenitori, di quel che si vuole. Quindi bisogna realizzare a valle della produzione, o meglio parallelamente alla produzione, bisogna realizzare una rete di infrastruttura infrastrutturale che sia in grado di distribuire in modo efficiente, capillare ed affidabile il combustibile, come oggi avviene con il combustibile di fossili che usano normalmente in navigazione, che sono diffusi in qualsiasi parte del mondo. Cioè la nave non può permettersi il lusso di arrivare in un porto e non avere la possibilità di rifornirsi. Quindi l'infrastruttura è una grande sfida. Ripeto, anche in questo caso la nave, l'armamento come tale può fare un'azione di stimolo, non può certamente fare il resto, chiudere il cerchio da sola. E poi c'è il discorso dei costi. Il discorso dei costi non è secondario, perché i costi necessari per la transizione energetica saranno costi estremamente importanti per lo shipping, queste risorse dovranno essere reperite. C'è da fare una transizione delle flotte, c'è da modernizzare le flotte e in ogni caso i costi saranno destinati a salire, sia perché si saranno necessari di investimenti, sia perché i fiori alternativi tenderanno a costare di più. Dal 2021 il Delta Norsk Veritas, che è uno dei registri di classifica più accreditati e più, diciamo, più, in qualche modo più stimati nel mondo, presenta uno studio di visione della transizione ecologica 2050, diciamo, è un outlook, la chiamano così. Quest'anno, l'outlook di quest'anno mostra delle cose abbastanza curiose e in qualche misura anche sorprendenti, da certi punti di vista. Vedete, questo qui è di luglio, di luglio di quest'anno. Dal punto di vista della flotta in esercizio, oltre il 98% delle navi viaggia ancora con i fuel tradizionali. Quindi il 98% della flotta è una flotta che viaggia come viaggia, come ha sempre viaggiato. Se lo guardiamo dal punto di vista del numero di navi, se lo guardiamo dal punto di vista del tonnellaggio, vediamo che è un pochettino più basso, ma mica tanto. Cioè, numero di navi e tonnellaggio praticamente giocano la stessa partita. Sulla destra abbiamo invece quelli che sono gli ordinativi ai cantieri. Bene, qui diciamo che noi ci aspettiamo che le navi in ordine siano in qualche modo ormai indirizzate verso i nuovi combustibili, combustibili alternativi, soluzioni nuove, ma in realtà non è proprio proprio così. Il numero di navi ordinate con fuel tradizionali continua a essere molto molto elevato. Il 74% quasi è di navi, sono ordini di nuove navi che viaggeranno col fuel normali. E si tratta di navi che ci vedremo da qui per i prossimi vent'anni, perché la vita media di una nave è come minimo una ventina d'anni. Quindi diciamo, le navi che stiamo mettendo in acqua oggi, come numero, per il 74% sono esattamente come quelle che abbiamo già. La cosa cambia un pochino, se andate nel riquadro di sotto, se parliamo di tonnellaggio. Se parliamo di tonnellaggio, lì la cifra è interessante. Voi vedete che più della metà del tonnellaggio dei nuovi ordini è fatto con fuel alternativi. Cioè le grandi navi, cioè le navi che stanno in qualche maniera, che affronteranno quel famoso commercio internazionale, quindi navi di grande tonnellaggio, vedete che per la maggior parte ormai più del 50% è orientato verso le soluzioni alternative. Questo è di un certo conforto, perché ci dice che tutto sommato la strada, lo shipping importante, quello pesante, quello che in qualche maniera fa il grosso del lavoro, diciamo così, è orientato in maniera positiva. Tenete conto che gran parte di quello che vedete, gran parte di quello che vedete, è riferito al, diciamo, del tonnellaggio, è riferito a LNG e metanolo, che sono i due fuel che stanno in qualche maniera emergendo e che sono anche i più, diciamo, i più abilitanti nei confronti di fuel biologici e degli elettrofuel che vedremo dopo. Vedete, per esempio, le cinque navi a idrogeno come numero diventano praticamente inesistenti se si parla di tonnellaggio, perché si tratta di prototipi dimostrativi spesso di poche decine di metri. Ci sono, vengono conteggiate come numero, ma poi alla fin dei conti non contano. Infatti, vedete che ammoniaca, idrogeno, non sono ancora ritenuti delle soluzioni in qualche maniera possibili, perlomeno al momento. Io ho una personale convinzione, poi non so se sia che corrisponderà nel futuro in realtà, ma che ben difficilmente vedremo navi a idrogeno. Molto, molto difficilmente. Non ne vedremo. Forse è qualcosa, un po' di idrogeno che alimenterà le celle a combustibile, ma poca roba. E anche per l'ammoniaca, io ho dei seri dubbi che le vedremo nelle navi passeggeri, per esempio, perché è estremamente tossica, pericolosa da maneggiare e quindi difficilmente per le navi che non siano magari navi mercantili dotate di un equipaggio particolarmente skilled, potranno vedere i mari. Penso che metanolo, metanolo NG, soprattutto con la loro declinazione in versione elettro, potranno avere un futuro. Questa è la mia opinione, però se avessi la sfera di cristallo e vedessi il futuro non sarei qui. Quindi non lo so, però la mia opinione è questa in questo momento. È interessante comparare quello che ci ha detto il DNV anche negli anni precedenti. In questa tabella vedete quello che veniva riportato nel 2021 e nel 2022 rispetto all'ultima edizione 2023. Qui parliamo di numero di navi, non di tonnellaggio, quindi i numeri sono relativi a questo. Ecco, vedete che un certo progresso c'è, anche se non con la velocità che vorremmo vedere. Perché, vi ripeto, in realtà le navi quando escono dal cantiere e poi devono in qualche maniera navigare. Purtroppo i combustibili alternativi non ci sono, sono distribuiti in maniera molto sparsa in giro per il mondo e quindi le navi devono giocare la partita su motori che attualmente sono cosiddette dual fuel. Vale a dire, le navi che avete visto prima, queste qua che vedete alimentate all'energia, metanolo, LPG, eccetera, la maggior parte di queste sono navi dual fuel, cioè sono progettate e costruite in modo da poter bruciare combustibili fossili, i combustibili fossili normali che bruciamo oggi e da fianco un combustibile alternativo, di modo che indifferentemente possano bruciare, per esempio, metanolo e bunker, di modo che se arrivano in un porto dove non è disponibile il metanolo possono usare, possono usare il bunker tradizionale. Ecco, nel 2021 era l'11,8%, diciamo il 12%, era raddoppiato quasi nel 2022, adesso vediamo che un pochettino si c'è fermato. Pensate che la MERSC, che è uno dei più grandi operatori di navi portacontenitori mondiali, ha costruito e sono state già consegnate alcune unità, è ordinato delle navi a metanolo, si è comprato, si è creato una partecipazione in una società per produrre il metanolo. Cioè, voglio dire, il circuito deve essere quello, cioè non ci può essere una nave che va con un certo combustibile se l'armatore non ha la certezza di poter avere quel combustibile. Questo qui è un dato fondamentale. I punti chiave che servono nella transizione energetica delle navi sono quelli che vedete illustrati là. Abbiamo già parlato dei fuel alternativi. Il problema è la densità energetica. Noi dobbiamo portare a bordo delle navi, in spazi di doti e con pesi contenuti, la quantità, maggior quantità possibile di energia, non di fuel. Bene, i combustibili di tipo gassoso per poter essere portati a bordo devono essere liquefatti. L'idrogeno deve andare a meno di 250 gradi, quindi con un impianto frigorifero che non è esattamente banale, ma lo stesso GNL che pure è usato deve andare a meno 163. Quindi anche lì l'impianto tecnologico per portare questo combustibile non è del tutto secondario. Perché? Perché soltanto portandolo alla forma liquida possiamo avere una quantità di energia sufficiente in spazi compatibili con gli spazi disponibili all'interno di una nave. Il metanolo, per esempio, che è un combustibile liquido e che quindi non ha bisogno di impianti di refrigerazione, comunque ha una densità energetica che è la metà di un combustibile fossile come quelli che usiamo oggi. Quindi comunque deve essere destinato a bordo il doppio dello spazio. Il doppio è un qualcosa che può essere tollerato. Si progetta e si costruisce le navi in modo da, come dire, conterrà un po' meno un carico pagante e un po' pochettino più di fuel. Ma se viene fuori la catena di approvvigionamento o mi consente di andare in giro per i porti e caricare il metanolo là dove mi serve, io non vedo problemi enormi. Il metanolo ha tra l'altro delle caratteristiche di sicurezza che sono, diciamo, più stringenti rispetto ai fuel che usiamo oggi, però è sicuramente un combustibile che può essere più maneggiato più facilmente di altri come combustibile alternativo. Il secondo aspetto è il ricambio delle flotte. La flotta mondiale è fatta di 70-80 mila navi, quindi stiamo parlando di numeri che tutto sommato sono modesti, perché non stiamo parlando di una grandissima quantità come numero. 70-80 mila a seconda che cominciamo a contare dalle 5 mila tonnellate o dipende da dove partiamo, però diciamo il numero è quello. Bene, voi pensate che prima della crisi finanziaria del 2008 i cantieri mondiali, quindi i cantieri asiatici soprattutto, perché la costruzione navale si è soprattutto spostata all'infarist, erano in grado di produrre circa un migliaio di navi all'anno, migliaio di navi di queste dimensioni. In Corea c'erano almeno una decina di cantieri in quegli anni in A che erano in grado di produrre più di una nave alla settimana, però stiamo parlando di mille navi, stiamo parlando di mille navi. 80 mila, 70 mila diviso mille fa 70-80 anni, è un conto molto banale. Quindi la transizione della flotta, il ricambio della flotta sarà sicuramente una transizione graduale. Pian piano vedremo le cose muoversi, però non aspettiamoci che si muovano in maniera troppo veloce, perché non sarà così. Perché c'è un problema di produzione, ammesso anche che domani avessimo i soldi per costruire tutto quanto, dovremmo inventarci una cantieristica che non c'è per fare tutte le navi che ci servono. E i costi? I costi operativi, i costi di capitale, quindi i qui chiamati gli OPEX, e i costi di capitale, i cosiddetti CAPEX, saranno destinati a crescere. Sono destinati a crescere perché? Perché ci saranno costi di investimento per le nuove costruzioni e per l'adeguamento delle navi esistenti ai nuovi standard richiesti. E i costi operativi cresceranno, perché cresceranno i prezzi dei combustibili alternativi. Visto che il gioco dei combustibili sarà così fatto, non saranno i combustibili alternativi a scendere, probabilmente soprattutto nel breve e medio periodo, ma saranno i combustibili non alternativi a salire di prezzo, perché? Perché verranno tassati. Quindi diciamo che alla fine dei conti, che l'armatore paghi 100, di cui 50 vanno in tasse e 50 vanno nel combustibile, o ne paghi 100 perché 10 vanno nel combustibile e 90 vanno in tasse, non cambia la partita. Il costo è destinato comunque a salire. Quindi dobbiamo aspettarci che questi costi, che sono difficili da reperire, vengano in qualche proporzione, in qualche misura, scaricati sull'utente finale. Morale, la transizione energetica ha dello shipping, la pagheremo più o meno tutti, perché come dicevo prima, qualsiasi cosa che noi andiamo a comprare ha un pezzetto di shipping al suo interno. Quel pezzo di shipping costerà di più. Avremo da qui al 2050 delle cose che sono destinate, dei temi che sono destinati a declinarsi, a scendere, altri destinati a salire. La flotta esistente diminuirà, diminuirà lentamente, meno lentamente che in passato, perché sicuramente tutta questa situazione è un acceleratore dell'obsolescenza delle navi. Le navi diventeranno vecchie anche per motivi regolamentari, non soltanto per motivi tecnici. Quindi ci sarà un'accelerazione, vedremo una flotta, come dire, rinnovarsi. Spariranno molto presto le navi single fuel a fuel fossile. Io mi aspetto che nel giro di qualche anno, in quel diagramma che vi ho fatto vedere prima, cioè di grosse navi propulse con fuel fossili, nuovi ordini, diventi zero, perlomeno nelle grandi navi di grande tonnellaggio. Tutte le navi saranno come minimo dual fuel e i fuel fossili tenderanno inevitabilmente a diminuire della loro importanza. Saranno spinti a diminuire della loro importanza. Dall'altra parte vedremo crescere il numero di nuove navi, zero carbon, dual fuel oppure carbon neutral. Incominceremo a vedere qualche nave single fuel ma alimentata con dei fuel alternativi, cioè sarà una bella notizia quando vedremo una nave single fuel alimentata che so, soltanto a metanolo. Oggi navi single fuel pure con fuel alternativi non mi risulta che ce ne siano, ce ne sono molto poche. E i biofuel e gli e-fuel sono quelli che sono destinati in qualche maniera alla, sono la prodo finale, quello che noi, quelli che gli ottimisti giudicano la prodo finale. Qui è un po' riassunto quello che vi ho detto. Perché gli e-fuel sono la prodo finale? Perché saranno il modo per elettrificare lo shipping in modo indiretto. Voi sapete, l'elettrificazione della macchina passa per le batterie e per le colonnine, no? Noi con le navi non possiamo fare questo. Lo potremmo fare magari in un futuro con delle navi piccole che collegano le isole minori, come accennavo prima. Sicuramente per una nave di grande tonnellaggio, una deep sea, una nave a lunga navigazione, non sarà possibile con le batterie. Però con gli elettro-fuel, quindi i fuel con la E messa prima, potremmo raggiungere questo risultato. Perché in un mondo dove tutta l'energia elettrica sarà prodotta con fonti alternative e magari col nucleare, perché ricordiamoci che noi in Italia e il nucleare non lo usiamo, ma il resto del mondo lo usa e lo usa parecchio e lo sta incrementando. Anche paesi insospettabili stanno incrementando l'uso del nucleare. Come? L'uso del nucleare, cioè diciamo tutta l'energia verrà in qualche maniera prodotta da fonti o rinnovabili o fonti che comunque non producono carbonio, come ripeto, il nucleare, in un mondo del genere. Catturando la CO2 emessa in atmosfera e producendo per sintesi dei combustibili alternativi, noi potremmo produrre, si può produrre in maniera sintetica anche la comune benzina. Il diesel può essere prodotto in maniera sintetica. Ovviamente il discorso ha senso se tutta quanta l'energia che serve per alimentare questi processi viene da fonti rinnovabili, se no il processo ovviamente non ha significato. Se io produco l'energia che mi serve per sintetizzare un biodiesel, scusatemi un elettrodiesel, la produco con l'energia di carbone, è una partita in perdita ovviamente. Per cui in questo modo se noi avremo emetanolo, emetano, elettrodiesel, elettroamoniaca, sarà un modo indiretto di decarbonizzare lo shipping. Questo diciamo è il punto di arrivo, il target che uno si pone. Non ditemi in che anni questo sarà possibile perché non dipende tanto dalla possibilità tecnica di produrre quei combustibili là. Dipende da quello che dicevo prima, dalla possibilità che avremo di avere tutta l'energia che ci serve prodotta con fonti rinnovabili. E questo guardate che è la sfida vera. Questa è la sfida vera. Perché l'energia rinnovabile che abbiamo adesso, l'avete visto in qualche slide poco fa, non è sufficiente, assolutamente sufficiente per gli usi di cui abbiamo bisogno. Abbiamo un certo numero di possibilità per diminuire e per diminuire le emissioni di gas serra. Possiamo agire sulla logistica e sulla digitalizzazione dello shipping e sull'idrodinamica. Possiamo agire sulle macchine, quindi efficientando le macchine. Possiamo agire sull'energia, abbiamo parlato di questo sino a poco fa. E poi possiamo avere anche l'after treatment, cioè produciamo carbonio, lo recuperiamo e in qualche maniera lo riutilizziamo oppure magari lo stocchiamo nei giacimenti dismessi. Questa è una cosa di cui si parla. Permettetemi di avere un po' di scetticismo riguardo a questo. Non lo vedo, non la vedo una grandissima soluzione. Non la vedo una cosa molto possibile, soprattutto a breve termine. Però diciamo logistica e digitalizzazione possono fare molto. La riduzione di velocità, per esempio, è una delle cose su cui si può, da un punto di vista generale, giocare di più. La potenza e quindi i consumi vanno col cubo della velocità e diminuendo anche di pochi decimi di nodo la velocità di una nave, il discorso rende parecchio. Si riesce a risparmiare una quantità considerabile di combustibile. Quello che non è possibile fare è ridurre la velocità al di sotto dei certi limiti che consentono l'operatività. Per esempio ci sono delle navi di linea che devono percorrere determinate rotte con determinati tempi che al di sotto ad un certo livello non possono andare come velocità. E tenete conto che c'è nascosto anche un discorso, non bisogna guardare la singola nave, ma bisogna guardare il traffico che c'è tra il porto A e il porto B. Ridurre la velocità in fin dei conti significa ridurre lo scambio tra quei due porti. Se riducendo la velocità io sono costretto a mettere una terza nave, magari più lenta, che magari sta dentro i parametri, non sto facendo niente perché alla fine sto consumando addirittura di più. Quindi bisogna stare molto attenti quando si giocano con queste cose. Però sicuramente la riduzione di velocità è una cosa possibile e soprattutto redditizia da questo punto di vista. L'utilizzo della nave, per cui utilizzare delle navi che siano in qualche maniera, far partire le navi quando sono piene, diciamo così. Avete sentito parlare durante il Covid del black sailing. Il black sailing era una strategia che hanno messo in piedi le compagnie di navigazione che trasportavano contenitori che hanno, per quel periodo lì, hanno dimenticato gli orari di partenza e di arrivo, diciamo così. No, non partivano quando era l'ora di partire, partivano quando la nave era carica. Questo consentiva in qualche maniera di, come dire, di efficientare il trasporto. Ecco, questo è un modo diverso di utilizzare le navi. Ma utilizzare diversamente le navi vuol dire anche mettere in piedi strategie tipo il long time arrival nei porti, vale a dire non accelere una nave per farla arrivare presto in un determinato porto quando poi devo aspettare in rada per due o tre giorni. Metto d'accordo tra terminalista e operatore della navi in modo da arrivare in tempo. È un discorso che è banale da farsi, banale da dirsi, difficilissimo da farsi. Ve lo dico io che ho lavorato per una compagnia di navigazione di contenitori col proprio termine. Ebbene, era difficile tra lo shipping e il terminalista mettersi d'accordo. Doveva arrivare a quell'ora. Poi magari stava ferma in banchina inoperosa per qualche giorno. Però è un dato di fatto. I meccanismi operativi sono spesso complicati. Le rotte alternative, promuovere rotte alternative, vale a dire, per esempio si parla di weather routing, cioè di andare a cercare delle rotte che non sono le più brevi. Magari quelle rotte che in quel momento lì sono più favoribili perché incontrano mare meno, condizioni meteomarine meno gravose. Una nave che incontra del mare e del vento rischia spesso di consumare molto di più, se invece di consumare molto di più potrebbe essere meglio, preferibile una strada che allunghi leggermente la rotta ma che passi in condizioni climatiche più favorevoli. Questo è facile da dirsi, difficile da farsi perché spesso non è possibile farlo. Le rotte transoceaniche qualche volta lo consentono, altre rotte che magari vanno nelle coste, sono un altro rotte nord-sud, sono più difficili da portare avanti. L'idrodinamica. L'idrodinamica ci dà una grossa mano sicuramente. Tenete conto comunque che dal punto di vista dell'idrodinamica ci fa risparmiare del combustibile, il miglioramento idrodinamico. Quindi risparmiare del combustibile significa limitare i consumi e quindi le emissioni. Ma attenzione, non dico che il fondo del barile sia stato già raschiato fino in fondo, ma sono anni che gli armatori inseguono risparmio energetico per meri motivi economici, perché la bolletta è una bolletta estremamente salata. Però diciamo, voi avete sentito parlare di rifacimenti del bulbo, di low steaming. Gli armatori sono da anni ormai che inseguono di risparmi energetici cercando in qualche maniera di spendere il meno possibile. Però sono sicuramente delle cose che possono ancora essere fatte. Le macchine possono essere in qualche modo efficientate, dei motori tenuti ben in efficienza sono dei motori che rendono di più e consumano meno. Si possono fare dei risparmi contenendo le dispersioni di energia dagli scarichi delle navi. Quando noi buttiamo fuori del calore attraverso i gas di scarico stiamo buttando via dell'energia. Ci sono dei meccanismi che ci consentono di in qualche maniera di recuperare questa energia sempre per degli usi di bordo, per esempio per produrre l'energia elettrica che serve durante i servizi. Il rating dei motori. Il rating dei motori significa che se io decido di fare andare una nave molto più piano rispetto al valore di progetto, alla velocità di progetto, probabilmente ho bisogno di ritarare i motori, perché i motori sono stati progettati, costruiti e tarati soprattutto per una certa velocità. Se io sposto quel motore da quel punto di funzionamento in un punto di funzionamento molto diverso è assai probabile che io spenda molto di più in termini di combustibile di quello che potrei fare ritarando e deratando il motore. Quindi da questo punto di vista sono delle cose che possono essere fatte. Le batterie. Le batterie hanno un vantaggio, le batterie libri. Io vi può essere usato per la propulsione, però per lo stazionamento nei porti, e molti armatori già lo fanno, le batterie possono essere utilizzate in modo in modo utile. Diciamo che dal punto di vista energetico si sposta il problema niente di più. Cioè l'energia se la do alla batteria durante la navigazione la sto producendo con i motori. Quindi tutto sommato devo passare anche attraverso i rendimenti energetici della catena elettrica. C'è anche il rischio che possa anche addirittura consumare di più. Però c'è il cosiddetto il picking shave, cioè il taglio delle punte di richiesta. Io faccio sempre lavorare i generatori di bordo alla stessa potenza e quindi li faccio lavorare in maniera più efficiente e quindi ci può essere anche un certo risparmio di energia e quindi un risparmio di CO2. Tenete conto però che comunque le batterie con la decarbonizzazione c'entra poco, ma le batterie nei porti ci consentono di evitare quello che dicevamo prima proprio del Cold Irony. Cioè consentono alla nave di spegnere i propri generatori. Stanno sulle batterie e le città non soffrono di quello che invece soffrono quando ci sono tutte quelle navi in porto che emettono. dei fuel ne abbiamo già parlato, quindi non sto a dire di nuovo e dell'after treatment col carbonio ne abbiamo accennato, non sto a ripeterlo. Però questo ci dà un quadro generale di quello che si può fare. Come vi dicevo prima, noi dovremo convivere con la flotta esistente ancora per molti anni, con gran parte della flotta esistente. Quindi sulla parte di sinistra del riquadro. Voi vedete, quello che può essere fatto per le navi attuali, per le navi di oggi, non sono grandi cose, però possono essere fatte e sono le uniche cose su cui si può contare per contenere le emissioni di CO2 della flotta esistente. Man mano la flotta esistente diminuirà e quindi diciamo le compateremo. Bene, io direi che possiamo arrivare alle conclusioni. non sto di nuovo a leggervele perché tutto sommato ne abbiamo già parlato. Lo shipping ha debitato del 3% circa del consumo, della produzione mondiale di CO2, di clima alteranti. Deve fare e sta facendo la sua parte. Io ho una convinzione che ridurre lo shipping, ridurre l'emissione dello shipping sarà molto molto costoso ed in valore assoluto anche molto molto relativo. Mi costerà molto ridurre poco. Probabilmente in altri settori costerebbe molto di meno ridurre molto di più. È un po' il gioco. Se tutti quanti dobbiamo ridurre del 3%, chi produce molto contribuisce molto dal punto di vista assoluto. Chi produce poco contribuisce poco, però quel poco potrebbe allo shipping costare veramente tanti tanti soldi. Abbiamo visto che la navigazione marittima dai Finici a oggi non può essere fermata. Non possiamo fare a meno della navigazione marittima perché l'economia ne ha bisogno. Ne ha bisogno per la propria transizione. Il pianeta ha bisogno dello shipping per la propria transizione energetica. Non potremmo fare a meno delle navi a meno che non vogliamo drasticamente ridurre il nostro modello di vita. Ed è qualcosa che qualcuno ogni tanto dice e paventa per dire ma ho visto parlare di decrescita felice qualche anno fa, ma di felice nella decrescita non c'è spesso molto molto poco. Però diciamo se noi vogliamo continuare ad alimentare lo sviluppo, lo sviluppo della nostra società, lo sviluppo delle nostre comunità, l'economia deve crescere per pagare se stessa, per pagare la vita normale e anche la transizione ecologica. Quindi lo shipping dovrà dare il suo contributo e nel contempo dovrà decarbonizzarsi. E queste sono le sfide. Avremo bisogno, come vi dico, di uno shipping in buona salute. La flotta esistente diminuirà piano, ma è destinata a diminuire. Presto vedremo delle navi low carbon e zero carbon. Nel frattempo dobbiamo applicare tutte le cose, tutte le soluzioni possibili per diminuire l'impatto della flotta. Infine le risorse economiche. Chiudo con un aspetto che secondo me non è secondario. L'anno scorso l'amministrazione italiana, dopo decenni, decenni, ha finalmente stanziato delle cifre per finanziare il rinnovamento della flotta e l'amodernamento della flotta. Un fondo complementare al Piano Nazionale di Resilienza, PNRR, scusate le sigle ci affliggono, ha stanziato un fondo di 550 milioni di euro per contribuire al rinnovamento delle flotte. Sono stati fatti i regolamenti, è stato fatto il regolamento attuativo, sono stati spesi meno di 70 milioni. Perché? Non perché gli armatori non avessero voglia di investire, ma perché purtroppo le norme fatte dall'amministrazione italiana devono essere confrontate con le norme fatte dalla comunità europea per poter essere in qualche modo, sono aiuti di Stato, quindi in qualche modo devono passare attraverso le forche e caudine della Commissione Competition. Bene, la Commissione Europea ammette dei finanziamenti soltanto se ci sono delle soluzioni tecniche di un certo tipo. Però se le soluzioni tecniche sono impraticabili e mi chiedono di fare delle cose che io non posso fare, mi possono essere dati tutti quanti i soldi che si vogliono, ma io non posso farle. È come se mi prometteste a me di darmi un miliardo di euro se corro i 100 metri in 10 secondi. È già un miracolo se riesco a farli 100 metri figurati in 10 secondi. Bene, quindi diventerà molto importante anche che il finanziamento, gli strumenti finanziari che inevitabilmente dovranno essere dati allo shipping, siano in qualche maniera coordinati con lo sviluppo tecnologico. Non si possono dare dei soldi per cose che non possono essere realizzate, bisogna essere un po' più, come dire, pragmatici. Cerchiamo di finanziare il possibile e quel possibile deve essere qualcosa, un mattone che viene aggiunto volta per volta nella costruzione che stiamo facendo. Alla fine il muro sarà sollevato del tutto. Bene, io mi auguro di non avervi annoiato troppo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Ingegnere, grazie per la sua relazione. Preoccupante sotto certi punti di vista, un po' meno sotto o altri, soprattutto nella parte finale. Ci sono domande? La ringrazio molto, soprattutto per aver messo in evidenza, secondo me molto bene, la complessità del quadro generale, tecnico, normativo, eccetera, che è sicuramente complesso. Mi è rimasto però un grosso dubbio. Lei ha parlato di un quadro normativo europeo, un quadro normativo a EMOC, immagino che sia internazionale, eccetera. Un quadro legislativo corrispondente esiste? Quanto è valido? Faccio una domanda molto semplice. In Europa penalizziamo chi emette più CO2, eccetera, eccetera. Arriva una nave indiana, rispetta se si regola o no, eccetera. È una domanda complessa, immagino, ma non so se può darci qualche argumento. Allora, diciamo, le UATS colpisce tutti i traffici che sono intraeuropei. Allora, il marittimo non era compreso sino a quest'anno e quest'anno è un anno di conteggio. Quest'anno, nel 2023, vengono conteggiate le emissioni. Si incomincerà a pagare nel 2024. Ma facciamo finta che questo non sia così, facciamo finta che siamo già a regime. Allora, come vengono conteggiate? Vengono conteggiate al 100% i traffici intraeuropei. Cioè una nave che scala due porti europei paga al 100% le proprie emissioni. Le navi che vengono da fuori dall'Europa pagano la metà della tratta che unisce il porto di Shanghai al porto di Rotterdam. Detta così è una cosa interessante. Cosa succede? Succede che le navi, tendenzialmente cosa faranno? Si fermeranno immediatamente fuori dall'Europa e faranno, lasceranno l'ultima tratta tratta delle navi feeder che faranno l'ultimo pezzo, di modo che la tratta grossa non verrà pagata. L'Europa sta cercando in qualche maniera di limitare questo discorso, portandolo, portando come dire, estendendola, estendendo a una distanza ragionevole, una distanza ragionevole, il vicino all'Europa. Cioè se uno ha un porto di transhipment, il porto che li ho descritto, è un cosiddetto porto di transhipment, è troppo vicino all'Europa, allora no, non va bene, tu la paghi lo stesso. In realtà questa domanda che mi fa lei è una domanda che mette in luce un aspetto. La navigazione, lo shipping è un discorso internazionale. E una cosa molto importante è l'uniformità dei regolamenti, perché se tutti incominciamo a fare dei regolamenti regionali, l'Europa si inventa il suo, l'America si inventa il suo e lo fa, i paesi dell'est asiatico, lo fanno anche loro. Alla fine diventa un ginepraio e l'armatore si trova a dover, a non sapere molto bene cosa fare e a trovare ovviamente quando ci sono delle scappatoie. Però alla sua domanda credo di aver risposto. Cioè la comunità europea si difende in questa maniera. Le normative sono vincolanti perché sono, se no lei non c'ha l'abilitazione a navigare, l'IMO fa delle norme. Se la nave non è compliant, non si conforma a quelle norme, non ottiene i certificati e non può navigare. Anche la nave indiana che non ha i certificati non può proprio navigare. Non può proprio navigare. Cioè non può toccare un porto di scalo dove c'è la convenzione SOLAS, la convenzione Marple perché la fermano lì. Quindi gira in India. Quindi le normative sono cogenti e sono normative che sono, no no, queste ci sono. Che poi si ci inventi le scappatoie e questo è un altro discorso. La ringrazio dell'esposizione ingegnere. Volevo dire che mi spaventa un poco il tempo necessario per arrivare a una soluzione radicale. E questi tempi lunghi che lei ha espresso, ha raccontato molto bene, sono un pochettino in contraddizione con il diktat dell'IMO, normative internazionali, quali presuppongono che il cervello umano riesca a superare delle barriere che mi spaventano molto. Cioè che le navi che girano sono tante. Questa è la mia preoccupazione sulla questione del rinnovamento di una flotta. Sì, è una preoccupazione che io condivido ampiamente, ma è un dato di fatto. Cioè purtroppo le capacità produttive della canteristica mondiale sono quelle che sono. La flotta è una flotta che mediamente non è troppo vecchia, perché tutto sommato la flotta si è molto svecchiata. Non parlo soltanto della flotta italiana, parlo della flotta mondiale in genere. Però gli investimenti sono tanti. Lo shipping è un'attività capital intensive. Gli investimenti necessari per portare avanti le nuove costruzioni sono dell'ordine dei milioni, dei milioni di dollari, dei milioni di euro. Quindi voglio dire, il reperimento di queste risorse è tale che non si può fare tutto in un battibaleno. E in più, ripeto, la canteristica mondiale ha sofferto molto. Di quei cantieri, quella decina di cantieri coreani che vi dicevo che erano in grado di costruire più di una nave alla settimana, c'erano cantieri che facevano 72 navi all'anno, ed erano almeno una decina. Beh, non ne sono rimasti tantissimi. Ne sono rimasti due o tre forse. C'è Daivu, c'è Hyundai, c'è Samsung, poi basta. Cioè, la potenzialità dell'industria è drasticamente, drasticamente. In Europa, da anni abbiamo abbandonato ormai la cantieristica, la fin cantieri, per carità, chapeau, ma fa navi che non c'entrano niente in un certo modo con quello che abbiamo detto. Sono navi da crociera, bellissime, hanno un loro mercato. Però provare a fare una nave mercantile in Italia oggi, beh, non c'è possibilità. In Europa, pochine. E questo è un pochettino il discorso... Ecco, voi pensate, per esempio, che quando io vi ho parlato del fondo complementare, uno dei vincoli era la costruzione in Europa dell'analisi. Beh, a prescindere che in Europa non ci sono cantieri, il contributo che davano era inferiore al differenziale di prezzo che c'era per costruire un navi in Far East. Quindi a questo punto, se tu mi dai un contributo del 20%, e lì mi costa il 30%, 40% di meno, e non ho vincoli di nessun tipo, perché qui eravamo vincolate a viaggiare su certe rotte, eccetera, eccetera, a un certo punto non mi stai mettendo in condizione di usufruire di questo. Sarà un processo lungo, più probabilmente più accelerato di quello che ci immaginiamo adesso, perché poi le navi fanno la svelta, gli armatori poi fanno la svelta, a un certo punto se vedono che stanno uscendo dal mercato in qualche modo a cambiare. Però sarà comunque un processo che secondo me non è compatibile con i tempi che vengono in qualche modo annunciati. Però se non ci fissiamo un tempo, alla fine non arriviamo da nessuna parte. Ingegnere, grazie. La sua presentazione è stata... Mi accelgo, mi senti, sì? Sì. La sua presentazione è stata eccezionale, devo dire che... La ringrazio, troppo buona. No, anche perché lei è un prodotto dell'Università di Genova, quindi è un ingegnere navale, il professor tedesco. Ma che di quel professore? Io lo conosco bene perché siamo colleghi e ancora... Cioè, lui era un professore quando io ero studente, anch'io, quindi io ho studiato navalmeccanica, poi ho fatto il meccanico perché non mi sono occupato di navi, ma le navi sono sempre, come dice lei, a pochi metri da casa nostra. Quindi grazie perché ha fatto una presentazione molto interessante. Io condivido con lei tutto il fatto che sia complicatissima la situazione, che si siano posti dei limiti incredibili, ma glielo posso dire sulla produzione elettrica, vale lo stesso discorso. Si dice a 2050 120% in più di produzione elettrica e il 90% da rinnovabili. No, no. Allora possiamo dirlo, però farlo è un'altra cosa. Mettiamoci anche il nucleare, mettiamoci quello che volete, ma è comunque difficile. Mi occupo di propulsione aeronautica, stesso problema che avete voi, cioè i numeri sono piccoli dal punto di vista delle emissioni, i problemi sono enormi, i costi sono incredibili, quale direzione stiamo andando, le stiamo provando tutte, però come diceva lei, i combustibili alternativi hanno potere calorifico, la metà di quello che normalmente è il chelosine leggero che viene usato. Quindi da questo punto di vista il tema è veramente incredibile. Le volevo chiedere soltanto una questione. Lei ha parlato di LNG e di metanolo. Entrambi contengono carbonio. Quindi entrambi non azzerano la CO2. Su questo siamo credo d'accordo. L'alternativa, ne ha parlato lei, io sono convinto che quello che dice lei sull'idrogeno sia sostanzialmente vero, tranne casi particolari, applicazioni come può essere la nautica, dove secondo me ci sono degli spazi invece dove si può lavorare, oppure su aree protette, la Emo dice delle cose particolari, eccetera, eccetera. Ma quello che mi dice abbiamo fatto la nave da crociera a idrogeno e io dico se ce l'avete un'altra dietro che vi sta portando l'idrogeno perché non ci sta. Questo è il problema. È inutile. È un lavoro in quel mondo. In questo momento ci stiamo occupando di sottomarini e propulsi a cella combustibile quindi stiamo lavorando su questo tema. È un altro mondo quello. Lì si può anche fare altre cose. Però la domanda è se in Italia non siamo ancora riusciti a fare il bunkeraggio di LNG. Seriamente, perché poi un conto... come possiamo pensare di passare in questi tempi a fare quelle cose che ci viene richiesto dall'AEMO, dall'International Energy Agency, dall'Unione Europea, da tutti quelli che vogliamo. Lei come la vede? Perché l'LNG, io ne sento parlare da vent'anni al porto di Genova, qui non c'è nessun responsabile, lo posso dire liberamente, ma non l'abbiamo ancora fatto, una cosa di un certo livello. Poi c'è la bettolina a Spezza che ha fatto la ricarica della nave da crociera, ma anche lì le cose... Veniva da Rotterdam. Che veniva da fuori. Seconda cosa, Cold Ironing. Allora, Cold Ironing è sicuramente una soluzione. Peccato che portare 50-60 megawatt dentro il porto di Genova non è proprio un'operazione. I miei colleghi di ingegneria elettrica, loro hanno i capelli e se li sono trovati ritti. Cioè, voglio dire, è facile dire queste cose, poi è difficile realizzarle, come diceva lei. Ecco, volevo sentire da lei che ha questa visione globale della flotta, perché poi è chiaro, le navi da crociera sono un altro mondo, è tutto un mondo molto particolare, eccetera, eccetera, la Nautica è un altro mondo, eccetera, eccetera, ma le navi importanti, il portacontennere, eccetera, eccetera. Cioè, come la vede lei questa situazione in questo paese dove il PNRR fa fatica? Io mi sento dire, se devi comprare qualcosa sul PNRR non ci riusciamo a spendere, poi usa gli altri fondi. Dice, ma come? Devo spendere, se no li perdiamo. No, no, ma non ce la facciamo, è troppo complicata la burocrazia. Grazie. Cosa le devo dire? Questa conferenza so che va in streaming e poi viene vedata su YouTube, quindi non vorrei sbilanciarmi troppo, ma secondo me, e mi sbilancio, secondo me molte di queste cose sono la fiera dei sogni, nel senso che portare, io ho sentito una volta una conferenza, una conferenza del porto di Trieste e con le navi da crociera che arrivano lì spengono la città, spengono la città, perché 10 megawatt moltiplicata, cività vecchia, 5 navi, 6 navi da crociera, 10 megawatt, 12 megawatt ciascuno, come gliela portiamo? Io parlo con i miei i miei corrispondenti di Terna perché mi occupo, sono nel, diciamo, nel gruppo di lavoro del Ministero per il Cold Ironing, siamo ancora al problema di dove mettere, se mettere la presa a dritto o mettere a sinistra della nave. Cioè, io sono l'ingegnere, quindi difendo la categoria in qualche modo, se il legislatore prima di scrivere determinate cose consultasse la tecnica e si rendesse conto della tecnica che c'è dietro, probabilmente certe cose non succederebbero. Il discorso è drammatico perché una volta che il politico o la politica ha scritto determinate cose diventa difficilissimo fargli cambiare le carte in tavola perché è difficile. Io mi sono trovato, mi sono trovato, nel mio mestiere attuale mi trovo a diretto contatto con chi fa queste cose qua e devo dire la verità, noi bisogna che agiamo da un punto di vista culturale, voglio dire, bisogna che abituiamo chi poi viene eletto in qualche misura e va di là a capire che le cose vanno studiate prima di essere scritte. Quando io scrivo che nel 2050 voglio arrivare a NIT Zero, è una gran bella cosa, faccio contenti un sacco di persone, però gli sto semplicemente dicendo quello che vogliono sentirsi dire non quello che sarò in grado di fare. Perché poi basta fare due conti della massaia, proprio quella di Voghera, anche tanto distante, e uno si rende conto che determinati discorsi non stanno in piedi. Il Cold Irony, lo sappiamo tutti che non abbiamo oggi una rete in grado di soddisfare. Genova, Genova c'ha pronto un piano ormai da anni per l'alimentazione del Cold Irony. Credo che ci sia l'Oltri che ha l'impianto di Cold Irony per le navi portacontentritori attivo. Poi le riparazioni navali, ma è poca roba. La parte del Terminal Traghetti e passeggeri navi da crociera, anche lì sono fermi, stanno lavorandoci, ma sono fermi. Io ogni tanto ho dei contatti con loro. Purtroppo la verità è che la corrente bisogna portarla. Non c'è e non ci sono le infrastrutture che la portano. Terna, che fa l'infrastruttura ad alta tensione, non sa che pesci prendere. Perché la bassa tensione che poi è gestita da mille altri non sa cosa deve fare. Sono dei problemi molto, molto seri. La ringrazio perché non ho proposte cattive che lui è terrorizzato. Addirittura. No, solo mi interessava moltissimo. non mi torna un conto. Allora, io vivo di fotovoltaico, quindi mi diverto a pensare anche al futuro. Supponiamo di essere nel 2100. Non ci saremo, io ho deciso che non ci sarò. Anche io. Tutti sono rinnovabili. Benissimo. Quindi, non c'è più bisogno di trasportare petrolio, carbone. Quanto è la percentuale delle navi attualmente che portano fossili in giro per il mondo? 50 per cento? No, meno, sicuramente meno. quelle navi non ci saranno più. Ci saranno bisogno di navi che trasportano l'idrogeno, le stanno già costruendo. Ma l'idrogeno, io so cos'è l'idrogeno, non lo faranno mai. No, ma non per le navi, non per le navi. Sì, per l'acciaieria, ma si fa localmente, non si trasporta. Purtroppo, purtroppo, lo sa che noi saremo dipendenti dell'idrogeno, perché la catena dell'idrogeno è una verità, per l'elettrificazione e l'idrogeno è fondamentale, perché lei sa benissimo che il fotovoltaico e l'eolico ci sono quando vogliono l'oro, quindi bisogna accumulare. L'idrogeno è un accumulatore di energie. I paesi in grado di produrre idrogeno devono avere a disposizione due cose, sole e terreno non utilizzabile. Guarda caso, gli stessi paesi che oggi hanno il petrolio. La geopolitica ci dice che dipenderemo dagli stessi paesi. Ci sono già degli studi e delle navi che trasporteranno l'idrogeno per tutti quei paesi in Europa. Lei mi ha detto che si userà metanolo, che è fatto con l'idrogeno e quindi va benissimo. Ok, io sono d'accordo. Ma il problema è che non ci saranno 40% di navi in meno. No, no, non ci saranno. No, perché non... Ci saranno navi di altro tipo. Ci saranno navi di altro tipo. Non è un dubbio che avevo perché non mi torno al conto, capisce? Lei non ha mai detto che caleranno le navi perché io vedo che caleranno le navi... Tutte le stime dicono che lo shipping è destinato a crescere. Tutte le stime dicono che lo shipping è destinato a crescere. 2100... Guardi, se riesco a... Poi ci vediamo, probabilmente saremo nello stesso posto entrambi, vedi che avevi ragione tu. Ci sarà caldo in quel posto, no? No, speriamo, speriamo ci sia l'aria condizionata con l'energia rinnovabile. No, solo un dato che non sono sicuro di aver percepito bene, capito bene. 3% dell'emissione di carbonio è dovuta allo shipping internazionale. Beh, direi che è quasi inesistente, ce ne potremmo fare 2,8. Eh, cioè, è veramente molto poco, cioè, in gigatonnellate ha un'idea di quanto sia? No, non ce l'ho perché non... certi numeri non riesco a focalizzarli neanche. Il 3% mi dice che è poca roba, non trascurabile, perché... ma è costosissimo, probabilmente e ne faremo molto... probabilmente potremmo spendere molto meglio quei soldi che pagheremo tutti per cercare di decarbonizzazione magari soltanto dell'1% un settore che produce molto, 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 molto di più nello shipping. Questo è un po' il ragionamento. Infatti era questa il dubbio, cioè, è veramente una quantità piccola e... Questo ci viene chiesto di fare e questo ci sforziamo di fare. Va bene. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, ingegnere, grazie a nome dell'Accademia. Ricordo a tutti che il prossimo appuntamento è non qui da noi perché saremo nella sala del minor consiglio Palazzo Locale con la tavola rotonda alla quale parteciperanno componenti politiche e componenti che vengono dal mondo dell'impresa. Grazie e arrivederci. Grazie e arrivederci. Grazie